Il prossimo 13 gennaio ricorreranno dieci anni dal naufragio della Costa Concordia. È stato un evento drammatico che rimane indelebile nei ricordi dei soccorritori e di tutto il sistema di protezione civile che è stato coinvolto sin dai primi momenti. Io ricordo che all'epoca dirigevo l'ufficio che gestisce le emergenze di livello nazionale, siamo stati chiamati per questa nave che inizialmente sembrava avesse perso il controllo e dopo un approfondimento fatto in sala operativa abbiamo appreso della realtà delle questioni, cioè che la nave aveva avuto uno squarcio sul suo fianco e che era sostanzialmente parzialmente sommersa con delle persone che stavano cercando di porsi in salvo. Ovviamente come tutte le emergenze anche di livello nazionale c'è una prima fase di soccorso alle persone, su questo non posso non ricordare l'affetto, la dedizione, userei anche la parola l'amore col quale i gigliesi hanno accolto le persone che improvvisamente da un momento che doveva essere di svago, quello di una crociera si sono ritrovati infreddoliti, bagnati su un pezzo di mare, anche magari alcuni non ben comprendendo neanche dove si trovavano e qua la generosità dei gigliesi che è tipica del popolo italiano durante le emergenze è esplosa in una maniera veramente incomiabile, hanno aperto le proprie case, hanno aperto le proprie botteghe, una comunità che d'inverno fa poco più di mille persone si è trovata con migliaia di persone che provenivano da una situazione drammatica. Poi c'è stata la fase della ricerca e del soccorso, i nostri tecnici migliori, il Corpo Nazionale di Vigile Fuoco, le Capitanerie di Porto, le altre strutture operative, le Forze dell'Ordine, tutti si sono impegnati senza sosta per cercare di salvare il più possibile le persone che si trovavano in situazioni drammatiche, ricordo le persone salvate qualche giorno dopo in situazioni veramente difficili, lavorando in un contesto operativo complicatissimo e poi tutta la fase di recupero, la progettualità, l'ingegnerizzazione del recupero, la rotazione, il cosiddetto parbacling e poi il trasferimento verso Genova, mesi di analisi, calcoli, progetti, discussioni, sempre rivolte alla tutela dell'ambiente, quindi con un occhio rivolto alla salvaguardia di quel paesaggio bellissimo che è circostante l'isola del Giglio. Credo che non possiamo non tener conto di alcuni elementi da questa emergenza, il primo è il rapporto con la scienza, tutta la fase operativa che andava dall'inizio quando la nave comunque era monitorata da alcuni centri di competenza per coglierne i piccoli movimenti anche durante le operazioni di soccorso, fino al trasferimento finale, il rapporto con la comunità scientifica, con chi conosce profondamente quelli che sono i comportamenti delle strutture, anche in situazioni difficili da prevedere, è un rapporto fondamentale. Vive in qualunque attività operativa, in qualunque gestione emergenziale, e lo vediamo anche con l'esperienza drammatica dell'emergenza sanitaria, il rapporto con la comunità scientifica e con chi può approfondire con la tecnologia ciò che è il contesto nel quale ci si muove. Importantissimo come altro punto da sottolineare il rapporto col privato, è un elemento che nel nostro paese ha degli alti e dei bassi, ma il rapporto con chi lavora nell'industria, con chi lavora nel mercato oggi è imprescindibile. Lavorare con persone che hanno esperienze mondiali, come quello che è accaduto nella Cossa Concordia, ha arricchito notevolmente i nostri tecnici, ha consentito i nostri tecnici, italiani di sfoggiare le loro migliori intuizioni e renderle operative in quello che è stato poi l'operazione di rotazione della nave e poi di trasferimento. Il terzo punto è il rapporto con la popolazione, il coinvolgimento, il coinvolgimento della gente. Noi senza la sensibilizzazione sui rischi dei nostri concittadini, senza il coinvolgimento di quello che si sta facendo nelle gestioni operative, come nelle gestioni che seguono le fasi emergenziali, senza la trasparenza di ciò che si fa non esisterà nessuna operazione che possa andare a buon fino se non condivisa con il cittadino che deve collaborare, se convinto nella bontà delle operazioni. Questo è un elemento cruciale che è un'altra delle lezioni apprese nell'ambito della gestione emergenziale della Cossa Concordia. E poi ci sono i ricordi personali, ognuno di noi, ogni soccorritore conserva di quell'esperienza alle questioni più drammatiche, i volti delle attese, i volti delle attese delle persone che sperano, che hanno sperato, i volti di coloro che cercavano un conforto. Ecco, questo rimane nel cuore di tutti i soccorritori che hanno fatto di quell'esperienza drammatica un punto della propria vita. Però ci tengo a sottolineare una cosa, quell'esperienza drammatica è stato poi anche il momento di rilancio di un paese. L'errore di qualcuno è diventato poi il riscatto di altri e al netto delle persone che non ci sono più al quale va il nostro ricordo, il nostro sentito affetto, c'è poi un paese che ha saputo dimostrare di essere in grado anche di rimediare agli errori che sono palesemente avvenuti.